Dopo la notizia dello stanziamento da parte della Regione Piemonte di 2 milioni di euro per interventi di revisione alle funivie d'Europa e la conferma dello stanziamento di 3 milioni da parte del Comune, viene ora fatto un altro passo in avanti nel lungo iter che dovrà portare al ripristino dell'impianto. L'amministrazione comunale guidata da Claudio Corradino ha effettuato alcuni adempimenti tecnici che consentiranno al Comune di diventare ufficialmente proprietario dell'impianto, comprese le due stazioni di partenza e di arrivo. Ora la palla passa alla provincia. A seguito di una loro delibera potremo contrarre il mutuo e questo darà modo di lanciare il bando europeo, studiato anche da una società specializzata, sottolinea l'assessore alla montagna Barbara Greggio. Dovremo ricevere a breve la consulenza con le linee guida per avanzare di un altro step nel lungo iter di lavori. Intanto il Comune farà di tutto per procedere in modo veloce nel rispetto delle tempistiche imposte dalle leggi, in modo di salvaguardare il personale della funivia, ma ci sono situazioni che non dipendono da noi, ancora aggiunge l'assessore Greggio. Di sicuro non sottovaluteremo nessun passaggio perché la Conca d'Orope rappresenta il polo propulsore del turismo e il cuore delle Alpi biellesi, di straordinaria importanza per il nostro sistema turistico montano.